Chiara sei una cicamala! Allora, perché lei, com'è che dico le cicamale? Io sono un'annata principessa che è stata guerriera, un angelo bianco e un'anima nera. Esatto, proprio così. Allora, praticamente donisiani oggi, con questa cicamala qua, andremo a fare un passaggio segreto, esatto, un passaggio segreto per mettere i libri. Che, no, avete presente tutta la storia della vanilla oscura che si sta svolgendo. E' una cosa molto inquietante. Esatto, e in questa vanilla ci giocano anche molte altre persone, quindi se volete entrare, fatelo pure, però prima dovete venire sul nostro Discord, perché così vi aggiungo, dovete avere Minecraft Java Edition. Assolutamente sì. Allora, io ho pensato di fare questo passaggio segreto qua sotto l'acqua, però mi raccomando ragazzi, cercate di non farlo vedere a troppe persone, tipo ad occhi inesperti. Però non sarebbe più segreto. Esatto, ad occhi inesperti dovrà essere una semplice decorazione, vedi Chiara, come sto facendo io ora. Magari, però prima qua devo fare così, perché se no, eh, è che caspita. Poi qua ci metto una serie di, ci metto una serie di lillipadoi, come puoi ben vedere. Ah beh dai, un bel laghetto. Assolutamente, è tipo un laghettino. Ora Chiara però, scava sotto, sotto dei blocchi tipo, di... L'ho preparato piccola. Ok, perfetto, l'avevo preparato apposta. Scava sotto tipo, boh, di dieci blocchi, non troppo. Dieci? No, 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 ma non l'ha, non l'ha, non l'ha, qua sotto. Ah, qui? Sì, è certo. Lo faceva tipo in Giangiubertino, lo faceva. Non so se sapete chi è il Giangiuberto, ragazzi, un grandissimo. Credo dovrebbero essere dieci. Mamma mia. Dieci? Ok, vabbè, l'importante è che sia abbastanza... Ok. Ora, tu come dici di fare il sistema di scesura? Cioè nel senso che scende, no? Che sale e scende. Scende e sale. Che scende dovrebbe essere con il magma blocco. Ok, con il magma. Ah, no, 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 ok. Ma io non dicevo con l'acqua, io dicevo tipo... Vabbè, prima di tutto mettiamo un po' d'acqua, anzi, ce l'hai l'acqua tu lì? No. Mamma mia, che pro! Ma porca miseria, è una roba pazzesca. Allora, e mi si è rotto il piccone. Ora, scava, fai una stanza tipo, però quadrata deve essere. Ho sentito una cosa pazzesca, Ruduniziani. Ho sentito? In casa mia, purtroppo. Eh, c'è i fantasmi. Sì, mi sa di sì. Perché io ieri sera ho giocato pure a fasmofobia. Chiaramente, questa è una roba pazzesca. Una cagogenità assurda. Allora... Lo rago di più? Eh, sì, ancora, ancora. Perché praticamente deve essere tutta una stanza decorata molto bene. Ma dov'è il ferro? Eccolo qua. Non lo trovava Duniz. Beh, Duniz è un po' scemo. Eh, beh, beh, come ti permetti. Brutta puzzocchiona. Io cuo tutto. Esatto. Allora, ora ti aiuto. Anche un po' il soffitto, chiaramente, perché qua dobbiamo scavare bene. Ho avuto il soffitto. Intanto faccio la parete. Eh, assolutamente no. Quindi... No, come assolutamente no? Eh, esatto, esatto, esatto. Perché io adesso dovrò andare un attimo con i Duniziani a scavare delle cose. Tu, Chiara, nel frammentere, usa questi blocchi un po' a tua discrepazione. Ok? Discrepazione? Sì, nel senso a... Eh, fai le mura magari blu, eccetera. Guarda, te li do tutti, altrimenti poi magari chissà. Però tipo tutto quanto così. Va bene, discrepazione. Esatto. E vediamo se... Ok, anche questi. Però, allora, questi per terra. Tipo così, guarda. Tipo a scacchiera. A volte qua ce ne è uno. Sì, sì, sì. Poi ce ne è l'altro. Ho capito, ho capito. Ok, te ne ho messi io questi perché chiaramente... Allora, vediamo un attimo qua sopra come fare il passaggio, Duniziani, il passaggio segreto. Allora, io pensavo di fare il passaggio segreto. Allora, prima di tutto, il passaggio Chiara dovrà essere da questa parte. Secondo... Aspetta, eh. Mi sono perso. Ok, vabbè. Un po' perso, sì. Vabbè, facciamola da questa parte, tanto non penso sia un problema logistico. Ma sì. Non so cosa ho detto, vabbè. Logistico. Eh, infatti. Allora, praticamente, Duniziani, i passaggi segreti. Io ho preso una serie di pistoni, però io non so come farli esattamente. Cioè, questo è il punto. Pensavo si è informato. Assolutamente no. Ah, ecco. Eh, eh, eh. È proprio bene. Eh, eh, certo, certo. Vuoi mettere... Allora, praticamente qua, in teoria, dovrei fare una cosa di questo tipo. Ma vediamo se funziona, perché io potrei... No, ma stai scherzando. Cosa, caspita, hai fatto? Oh, mio Dio. Te lo la lava sotto. Duniziani. Perché mi accompagno con questa gente? Ma io cosa ne potevo sapere? Stai lì, che si suicida di nuovo. No. Sei morta? Hai perso tutto, vero? No. Come no? Ma c'è il fund inventory, scusami. Sì. Ma questa cosa non dovrebbe esserci. Perché c'è il fund inventory? Non lo so. No, raga, vabbè, ok Poi, meno male che Quando giocavamo a Siraga Comanda Color, credo Eh, cos'è che hai detto, scusa? Quando giocavamo a Siraga Comanda Color, secondo me Ah, ok, questa è un'altra cosa Eh, sì, dammi tipo Quattro blocchi Di azzurro, tipo Perché chiaramente servono quattro blocchi di azzurro Magari per le mura fai finta Perché io faccio così Poi dopo, in teoria Dovrei fare tutto un circuito pazzesco Qua dietro, Doniziani, che io... Che non sai fare Esatto, e questo è il punto, che non so fare Quindi adesso, poi questo video è un casino Perché, porca miseria, veramente Non so come fare qua Allora, se la logica No, 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 aspetta un attimo Io che qua, che logica, fenomeno, allora È un problema Un piccolo, leggero Che problema c'è? Non so minimamente fare Questo circuito Ma proprio minimamente Vabbè, per ora diciamo, Doniziani, che Fin quando lo completeremo Sarà un passaggio segreto un po' più fasullo Poi, chiaramente, nel prossimo episodio della vanilla Lo decoriamo solo Esatto, lo decoriamo solo No, facciamo direttamente il passaggio, chiaramente Dove metteremo tutte le cose Appunto, lo decoriamo solo tre volte Ah, esatto, esatto, esatto E poi l'apertura e la chiusura Ci penseremo un'altra volta Perché direi che in questo video assolutamente no Anche perché non sono esperto di Direston Quindi circa più avanti, così, no? Andiamo tipo... Faremo delle ricerche Esatto, delle ricerche Tutte quante Redstoniane, no? Non so se sapete Tutti quanti la Redstone Porca miseria, è una roba pazzesca la Redstone E dei marchi in geni assurdi, proprio Cioè, voi la sapete usare, la Redstone? Cazzo, scusa, cosa hai detto? Io no Io proprio no Ah, tu no No, no, proprio zero Che tristezza, Chiara È al massimo qualcosa sui command block Ma la Redstone proprio no Ma secondo me, guarda Non è proprio bello fare questa cosa Perché praticamente, Chiara Ti cagli addosso ogni secondo Che usi il command block Si sa questa cosa Ma, scusami? Sì Perché tipo fa tutta quanta Sì, so un po' di command block È come dire ad un cantante Che io sarei il cantante Ma sì, guarda Io canto un po' sotto la doccia Un cantante tipo professionista, no? Hai presente Ariana Grande Tipo, andare a dire ad Ariana Grande Una cosa di questo tipo No, ma ti sono detto Io La Redstone no Però qualcosa di command block Si Mi cosa ho detto Eh, io sono l'esperta di command Io sono Ariana Grande Se non l'hai capito E tu sei il cantante sotto la doccia Comunque non è vero Io manco i command block So usare Ah, e allora non parlare Eh, non parlare No, comunque seriamente Vogliamo bannarmi Cos'è che ho detto? Vogliamo bannarmi No Non c'è il giallo Io te l'ho dato tutto il giallo Eh, ma non basta Eh, allora Sogni in francia Devo andare a prendere del giallo Da casa mia Piccolo taglio pubblicitario Gabri, Gabri Vieni da noi Abbiamo finito tutto quanto Oh, meno male Cosa avete fatto? Abbiamo fatto praticamente il passaggio Dove ci metteremo tutti i libri Tutti i libri magnifici Quelli là Che Della vanilla Chiara, sei molto inquietante qua Tutta quanta grassa Cosa? Proprio come Gabri La foca grassa Ma tu non sai dove Aspetta che ti dico Ah, ok, ci hai trovato Ok, vieni, vieni Sali, sali Ah, praticamente Abbiamo fatto questo Sali-scendi Sali-scendi Con questo ascensore magico Che bello Molto magico no però Eh, sì Vabbè, fai finta È molto magico Vabbè, qua magari Non è stato completato Purtroppo Non lo dobbiamo ancora completare Questi sono stati dei problemi tecnici Non indifferenti Anche perché poi purtroppo Non abbiamo tutti questi materiali Siccome Il tempio Eh, non è che l'abbiamo preso ancora tutto Eh, quindi Eh, perché Come siamo la prisma Ci vuole ancora un po' Eh, sì, 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 sì Ma ha fatto anche dei Dei cose con la redstone Dei passaggi con la redstone Sì, assolutamente Dobbiamo fare Anzi, se tu sai aiutarci Sei ben invitato a farci Diciamo A darci una mano E comunque Duniziani ovviamente Vi ricordo che Voi potete entrare in questo mondo vanilla Chiaramente Se volete E seguire la storia Direttamente da Eh, esatto Dal vanilla Comunque potete uscire Magari Ah, ok Ah, poi Mi è venuta in mente una cosa Nella 1.17 Eh Aggiungono la redstone Wireless Ah, vero, vero L'hanno detto praticamente Eh, come puoi dire È chiaro È un blocco Che praticamente È tipo Redstone È tutto redstone Tutto wireless Sì, 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 sì Comunque È molto bello Molto bello Allora, Duniziani Questa è la casa di Chiara ed Angelo Esatto Si sa bene Che loro stanno insieme Ma non per finita No Poi È ancora da finire Sì, sì, sì Infatti È bella Cioè in confronto la mia Vuoi vedere le nostre ricchezze Vuoi vedere le nostre ricchezze No, perché Sono troppe Poi Sì, certo Sappiamo tutti che in realtà Siete dei poveracci E finché non le vedrò Questa cosa non sarà reale Sono io Cioè non sono io Quella che erano i diamanti No, io ce li ho E come E ce li ho e come Perché sono entrato Diciamo ieri sera Mentre con Gabrie A scavare tutto il tempo Sì, è vero Questa invece è la casa di Gabri Guardate due disini Che bella che è Che bella Anche perché è finita Soprattutto No, non è finita Vabbè, scherziamo Mamma mia, è molto finita Quasi finita Diciamo Qua sopra Vediamo cosa c'è Qua sopra non c'è quasi niente Solo un letto Qua hai cagato nel letto Cosa hai fatto? No Vai, spacchiamogli tutto Sè No Sè Vai, vai, vai Ti prego Non c'è che circolare No Ma io veramente che Ma è uno strumento È uno strumento assolutamente Che serve per tagliare Le cose molto dure Tipo il legno Ti invento una cosa Vabbè dai, basta No Ah, poi guardate qua ragazzi Questo è stato per il video Di strega comandacolore Questa è la miniera di Gabri Esatto Esatto, qua c'è la mia miniera Eh sì Oh, devo dire che sono contento Per come sta uscendo questo mondo Anche se Siri si è tipo accesa Eh, esatto Si è sentita Vabbè, se nel caso Eh, di nuovo si è sentita Sì, vabbè Ma perché lei parte, no? Scusate, chi è stato a lasciare Questo albero così In alto Così brutto Mai farlo Assolutamente Assolutamente mai farlo Comunque, Duniziani Se volete vedere altri episodi Della Vanilla Basta che me lo scrivete qua sotto Nei commenti Sì, Vanilla Scrivete Sì, Vanilla nei commenti Oppure Nuova Vanilla Esatto Allora Nuova Vanilla Sarebbe molto brutto Se lo scriveste Ma potete anche scriverlo Viva la sincerità Esatto, esatto Potete anche essere sinceri Se volete Quindi Se volete Quindi noi ci vediamo Al prossimo video E allora andate No, scherzo Vi voglio bene No, no Mua Mua Proprio bellissimi Siete tutti quanti Infatti vi do l'abbraccio virtuale Su TikTok Comunque Noi ci vediamo al prossimo video Ciao, Duniziani Ciao Ciao